Parto subito dall'ultima chiacchierata con De Feudis, che è stata quella c'è stato un problema o c'è un problema con Manuel Giandonato e lui ha risposto no, no, scelta tecnica, non l'ho visto bene in settimana e quindi l'ho lasciato a casa. È tutto vero? Esatto, non posso che confermare quanto dice il mister, insomma. E quindi pensiamo alla prestazione di oggi, che abbiamo fatto secondo me una grande partita nel complesso. Il primo tempo sontuoso, uno dei migliori primi tempi da quando ci siamo noi qui. Poi purtroppo c'è stata la situazione sul possibile 2-0 sul rigore sul Pocio, non ce l'hanno dato, abbiamo preso il ribaltamento di fronte, poi la partita si è sporcata, ma insomma siamo, penso, sulla strada giusta. Chi pensa di vedere questa società che non arriva fino alla fine fa male i suoi conti. Ti volevo chiedere, Goffredo, a parte poi il discorso legato alla situazione Manuel Giandonato, puoi confermare di fronte ai nostri microfoni, anche se in tanti già lo sanno, che ci sarà l'intenzione di rafforzare ancora di più l'Aquila 1927, anche perché per voi c'è il tempo, insomma, di recuperare sulle altre, su quelle che corrono ancora di più? Il campionato è lungo, la fiducia nel gruppo di giocatori che abbiamo è massima, è chiaro che a dicembre, come penso tutti, cercheremo di fare aggiustamenti, il campionato poi si deciderà con chi sbaglierà di meno, anche in quella sede lì, poi avrà la meglio, è ancora tanta la strada, io oggi mi prendo la prestazione, che è stata una prestazione importante. Quanto fa paura la San Benedettese a più 7? L'anno scorso era più 8 questo periodo, poi gli abbiamo dato 10 punti, e quindi la strada è lunga, dobbiamo lavorare e imparare dai nostri errori, oggi dopo l'1-1 forse è stato il momento dove siamo scesi un po', ci è presa un po' di paura, sta roba, però Michele è bravo e saprà lavorarci sopra, insomma, io penso che la strada è lunga, la prestazione è confortante, domenica torniamo in casa nostra, vediamo dai.